Abbiamo in allestimento anche questo MAN 250 CV Euro 5 3 assi, ultimo asse sterzante, con un carrellone ribassato con rampa unica e due verricelli, uno in testa ed uno in coda. L'autocar è dotato di aria condizionata, sedile molleggiato e cambio meccanico. A poco più di 200.000 km lo consegniamo revisionato, allestito, entro fine giugno. Contattateci per maggior informazione. Grazie a tutti.